La puntata inizierà dopo un breve spot informativo di pochi secondi. Non sostituisce attività all'aria aperta. Esperienze da cani, il podcast. Bentornati e grazie di ascoltare anche questa seconda puntata su come insegnare al cane ad andare al guinzaglio. Per dare un titolo più realistico dovrei dire come insegnare al proprietario a gestire il cane in presenza di stimoli, visto che se indossa il guinzaglio al cane in casa il cane non tira. Non tira perché la sua omeostasi non è colpita da stimoli, sono gli stimoli che attivano l'eccitazione corporea. Serve insegnare all'individuo a gestirsi in presenza di stimoli, ricordi Silvia con le borse? Per il processo il simile guarisce il simile, garantendo una presenza costante di stimoli, la risposta dell'individuo agli stimoli, inizialmente eccitatori, perde di valore, in quanto si innesca un processo naturale detto di adattamento. Pensa ad un chirurgo che opera le parti basse del ventre. Ogni giorno ha le mani dentro e vede intestini, stomaci eccetera. Inizialmente avrà avuto anche lui o lei una reazione, ma a seguito della continua presenza degli stimoli nel tempo, non farà più caso alla cosa. Media Dog non è una TV per cani. La TV, in quanto elettrodomestico, serve solo per diffondere stimoli nell'ambiente, per quando il cane rimane solo o non ha niente da fare. Una persona un giorno mi disse Non capisco come, come Media Dog, un cane possa calmarsi. Ma in realtà il cane non si calma, semplicemente impara ad adattarsi a determinati stimoli. Risposi a lui e rispondo a te che forse in questo momento hai lo stesso quesito. Devi sapere che il cervello è composto da due emisferi, il sinistro per gli aspetti cognitivi, il destro per quelli emotivi. Il cervello ha comunque al suo interno delle strutture di apprendimento inconsapevole. Inoltre, per questa area del cervello non esiste la finzione. Infatti, anche tu ti sarai emozionata o emozionato davanti ad un film, pur sapendo che era tutto finto. Allora sono io che ti domando, perché? Perché le persone, i cani e le altre specie animali sono dotati di neuroni specchio? I neuroni specchio ci fanno comprendere lo scopo del comportamento altrui e possono far entrare in empatia con il simile. Ma non solo col simile, sono percepibili anche tra specie diverse. Quindi, immedesimandoci nel personaggio di un film, abbiamo consumato con lui, abbiamo percepito la sua emozione. Le persone, quando guardano una partita di calcio, pur non essendo in campo, calciano il pallone nella loro mente. Chi di noi non ha mai voluto uccidere il cattivo del film? Chi di noi non ha mai gioito? Quando il buono finalmente uccide il cattivo. Però era solo un film. Eppure, le immagini e i suoni che Mediadog rilascia nell'ambiente attivano i neuroni specchio del cane e, in caso di stimoli nuovi, la curiosità, attivando i neuroni e portando l'individuo al consumo, cioè a capire cosa produce quel suono. Non si possono chiudere i sensi. I sensi sono fatti per permettere agli stimoli esterni, anche pericolosi, di fluire nella mente. Si sbatte la testa quando non si è vista l'anta. Si rischia di finire sotto un'auto se non la si vede arrivare, ma anche se è dietro di noi e non la si sente. Io chiedo alle persone di essere consapevoli. Non si può e non si dovrebbe giudicare qualcosa di cui non si sa nulla. Alcune persone mostrano i cartoni animati al cane. Il cane ovviamente si eccita, gli piace, ma perché vede forme muoversi velocemente, con suoni che rimandano al suo archetipo predatorio, al suono di prede. Le persone pensano si diverta, ma la fase consumatoria dov'è? Senza fase consumatoria e successiva fase di arresto, abbiamo un individuo che rimane agitato per l'insoddisfazione di un'aspettativa di consumo che poi non si è verificata. Quindi è costretto a scaricare la sua eccitazione nell'ambiente. L'attività masticatoria nel cane è una sua necessità, ma quando è eccessiva o malposta denota una mancanza o un carico emotivo. Perché caricare stress nel cane per poi dargli un antistress? Altre persone mostrano i documentari, ma i documentari sono fatti per l'uomo e quasi mai parlano di cani, quindi il consumo attraverso il simile non c'è mai. In Mediadog la sequenza appetitiva consumatoria arresto si sviluppa attraverso i neuroni specchio, quindi vivo l'esperienza del simile e consumo attraverso il simile, esattamente come l'attore di cui parlavo. I media sono costruiti con la stessa sequenza, vi è una fase di interesse iniziale, fase appetitiva, una seconda fase di consumo, fase consumatoria, che si esprime attraverso l'azione del mio simile che percepisco in tv, fino ad arrivare a una fase di arresto, cioè di rilassamento finale. Bisogna fare attenzione a questo, tra un media e l'altro il cane facilmente si ritrova in fase di dormiveglia, quindi quando viene proposto uno stimolo nuovo a seguito del secondo media che inizia, avremo un individuo che è in uno stato mentale di sonnolenza e che quindi sarà in grado di accettare uno stimolo che in realtà sarebbe stato in un'altra situazione per lui eccitatorio, quindi lui consapevolmente sta accettando di non eccitarsi, sta accettando di non attivarsi a seguito dello stimolo che solitamente avrebbe attivato una fase eccitatoria. A seguito di un periodo più o meno lungo e a seguito di un minimo di regole rigide che non vuol dire cattive o violente, il cane riduce gradualmente la sua risposta agli stimoli esterni ed anche allo stimolo noia che non dimentichiamo attiva l'individuo in quanto la noia è una sensazione interiore di frustrazione che spinge il cane, ma anche l'uomo, ad attivarsi nell'ambiente per trovare una pace interiore. Torni da lavoro, il cane è rimasto solo per ore, si è annoiato mentalmente, prendi il guinzaglio, capisce che sta per uscire, entra in fase appetitiva, lui è agitato, tu ti agiti e ti nervosisci, fai tutto velocemente perché speri che lui si calmi prima? In realtà stai consegnando ricompense facili e il cane sta imparando a consumare quella situazione in quel modo. Cosa ti aspetti che faccia quando sarai per strada? Non è razionale dire tira i primi cento metri, poi rallenta. Renditi conto che ha bisogno, tirerà. Il presente si affronta con le competenze del passato, ma il presente, se è diverso, apporta modifica al comportamento perché il cane porta avanti comportamenti che ritiene funzionali. Sta a noi spiegare cosa è funzionale e cosa non lo è. Se per primo mi faccio andare bene tutto, lui non può capire la differenza e io non devo lamentarmi. In buona sostanza, per insegnare ad un proprietario a gestire il cane al guinzaglio, lo stesso necessita di comprendere lo stato emotivo del cane man mano che gli stimoli si presentano. Come detto, una mente serena è in grado di consumare gli stimoli con una modalità molto più calma rispetto ad una mente stressata dalla noia. Questa mente stressata cercherà di consumare gli stimoli in modo frenetico, compulsivo, saltando da uno stimolo all'altro, di fatto innescando un loop tra la fase appetitiva e consumatoria. Il cane, inconsapevolmente, cercherà di consumare velocemente tutti gli stimoli, senza mai consumarli però completamente. Ma questa modalità lo porterà allo sfinimento, non alla soddisfazione. Il proprietario, vedendolo sfinito, spesso si convince che sia anche soddisfatto. Ma tra la stanchezza da soddisfazione e da sfinimento c'è un abisso. Il suggerimento, laddove è possibile, è di fare passeggiate brevi in termini di spazio, ma lunghe in termini di tempo. Un esempio può essere, uscendo di casa, percorrere 100 metri, avanti e indietro per 30 minuti o per il tempo stimato di uscita. Se continuo a cambiare strada o continuo a fare percorsi lunghi, ho meno probabilità di gestire gli stimoli a cui va incontro il cane. Man mano che il cane comprende come calmarsi, allungherò le distanze, aggiungendo 10-20 metri, uscita dopo uscita. Ricordati di dare indicazioni al cane sulla eventuale direzione da prendere, allineando il bacino nella direzione di marcia. Se lo guardi frontalmente e gli dici andiamo, lui ti guarderà e starà fermo, perché col corpo hai comunicato quello. Se porto fuori una mente serena, arriverò prima all'obiettivo. Focalizzati sulla mente, non sul corpo. Il corpo va dove dice la mente. Se sei interessato o interessata a Mediadog.it in descrizione trovi i miei contatti e il link del sito. Lo sai anche tu, una mente serena affronta le situazioni in modo diverso da una mente stressata. Il non far nulla stressa non è un dolce vivere. Grazie.